Nella classifica del sole 24 ore le università siciliane sono agli ultimi posti in Italia. I dettagli sugli indicatori tra didattica e ricerca. Gero Miciche. Ancora una classifica del sole 24 ore proietta la Sicilia al ribasso. Adesso è la volta delle università siciliane che sono gli ultimi posti tra gli atenei italiani. Il lavoro di analisi e valutazione è stato compiuto utilizzando 12 indicatori tradizionali che misurano i risultati di didattica e ricerca. In generale le migliori università sono al nord, da Verona a Trento, dal Politecnico di Milano a Bologna e ciò tra le pubbliche. Tra le private invece la LUIS supera di poco la Bocconi che precede il San Raffaele. Poi su 61 posti Palermo è al 54 gradino insieme a Catania che risale di due posizioni rispetto al 2015. Ancora meglio è Messina che risale di quattro posizioni e si piazza al 35esimo posto ed è una delle poche eccezioni positive del sud. Su tali dati non ha esitato a manifestare riserve il rettore dell'Università di Palermo Fabrizio Micari che spiega che vengono presi in considerazione dei fattori su cui le università non hanno controllo. Palermo è premiata per la formazione e la didattica ma è penalizzata da altre misurazioni come l'attrattività per studenti fuori regione, la copertura delle borse di studio e la capacità di attrarre fondi esterni per la ricerca. A essere basso è anche il dato sugli studenti occupati a un anno dalla laurea. E infatti nell'analisi del quotidiano economico, in riferimento alla carenza di sbocchi occupazionali, si legge che si tratta di un andamento che vale per tutto il sud, penalizzato dall'assenza di un tessuto produttivo interessato alle competenze accademiche in grado di recepire i laureati. E poi per quanto riguarda l'attrattività, quindi le percentuali di immatricolazioni da parte di fuorisede, le università di Palermo e Catania sono rispettivamente al penultimo e all'ultimo posto e per la qualità della produzione scientifica, Palermo e Catania sono al terzultimo e al quartultimo posto. In compenso, Catania è la tredicesima università d'Italia per la sostenibilità e Palermo quindicesima per i progetti di mobilità internazionale. E ancora per la qualità dei dottorati, Palermo, Catania e Messina sono assiepate al ventiquattresimo posto. Infine, tra le private, la Core di Enne è al primo posto nella classifica degli atenei privati per voto degli studenti, al quinto per la qualità degli stage e poi giù in tutti gli altri ambiti.